Musica Se vi sarete per caso chiedendo perché sono andato in stream su youtube ieri Ho deciso di avere un nuovo programma ferro per quanto riguarda la situazione live Dal lunedì al venerdì Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì Dalle 17 alle 19 sarò in live su twitch Sabato avrò il giorno libero che non farò live E domenica sempre dalle 17 alle 19 la faccio però su youtube Quindi domenica venite su youtube per darmi supporto durante lo stream E nulla Io vi dico il video delle skyblock lo farò uscire Lo farò uscire Lo farò uscire mercoledì il video Il quarto episodio della skyblock Perché l'altro era abbastanza noioso Visto che c'è un piccolo problema controller E nulla Ci vediamo Ci becchiamo alle 17 in live su twitch E nulla Da Infiltretto è tutto Ciao ragazzi Ciao ragazzi